Augurio a tutti buona Pasqua! Augurio anche a tutti i bambi e a tutti i malati! Augurio i palestri e stati in casa! Così accassi gli anfibocchi la benedizione pasquale ai tempi del coronavirus a distanza e dall'Ape. Dalla strada c'è la distanza, sono solo, non ho contatti con nessuno, quindi mi pare che sia un gesto che dobbiamo rispettare le regole, assolutamente, però dobbiamo anche dare il minimo... Il parroco Don Adriano Ralli ha infatti deciso di passare con l'Ape per il paese e, rimanendo a distanza, dare la consueta benedizione pasquale a case e aziende. Ho sentito che la gente ha bisogno di sentire la vicinanza della vita pastorale, che non finisce, si spera di ripiare, però è ridotta. La tradizione oggi è San Giuseppe, la festa dei babbi, le frittelle, le palme, l'uomo benedetto, cioè se si smette tutto ci si deprime ancora di più. Quindi è un segnale, la gente sta aspettando, come la tradizione fa cantante alle terrazze, ma se un attimo la prendiamo nel conforto, che ci aiuti e ci dia un po' di forza anche, penso che sia un segnale di amore alla nostra gente. Il paese ha accolto a braccia aperte l'iniziativa Spalancando Finestre e Balconi. È un'iniziativa eccezionale, per questo momento che stiamo vivendo è perfetta. Da vicino non si può restare, in chiesa chiusa, è obbligo che l'ha fatto fare, sicché bisogna prendere come viene. Abbiamo benedetto le uova pasquali, perché quest'anno purtroppo bisogna far così e speriamo che Dio ci protegga, perché abbiamo proprio bisogno di protezione. È una bellissima iniziativa Don Adriano, come sempre, speciale.